Anche stamattina il maltempo ha caratterizzato le funzioni religiose delle feste patronali di Biancavilla, tanto che la pioggia battente ha fatto saltare l'uscita del simulacro di San Placido dalla Basilica. All'interno si è però svolta regolarmente la consegna delle chiavi della città e della Palma. L'uscita è stata rinviata domani sera e a mezzogiorno di domenica prossima. Don Bino, questa mattina una giornata particolare per la festa di San Placido. A causa del maltempo è saltato un po' il programma delle manifestazioni. Ci spiega cosa è accaduto? Innanzitutto vorrei dire che il bagno di folla c'è stato lo stesso, la devozione dei biancavillesi verso i santi patroni è indifferente davanti alle intemperie. Non viene scalfita la devozione perché la gente ce l'ha nel cuore. Ed è bello poter vedere che nonostante le piogge la gente è venuta, è accorsa, è atteso, si è bagnata come ci siamo bagnati un po' tutti perché il tempo è stato quello che conosciamo. Però oggi la giornata nel programma era il tradizionale abbraccio di San Placido con il popolo a mezzogiorno. Il santo viene sceso dall'altare maggiore, messo nella vara e poi è sceso in mezzo alla gente. Non abbiamo potuto fare questo momento perché per la pioggia la scivola, la rampa che ci permette di scendere dalla basilica è bagnata, si era bagnata e quindi non mi sono sentito di assumermi la responsabilità del pericolo perché la vara è molto pesante e quindi non potendo frenare con i tempi giusti si metteva in pericolo la gente soprattutto e quindi attendiamo. Però nonostante che il santo non sia potuto uscire e abbracciare il popolo, il santo ha chiamato la gente a venire dentro. Ed è stato bello poter vedere tanta folla che ha partecipato alla santa messa, ha partecipato al sacramento della riconciliazione, poi ha vissuto la preghiera, si è fermata a lodare il Signore attraverso i canti e poi a ricevere la benedizione con la reliquia del santo. Questo momento verrà in ogni caso ripreso più avanti. Abbiamo concordato col Sindaco, con l'amministrazione e con le autorità che la processione di oggi sarà ripresa domenica mattina, secondo le condizioni meteorologiche sappiamo che domenica sarà una bella giornata e quindi riprendiamo, diamo per certo che domenica a mezzogiorno il santo uscirà in mezzo alla gente e farà il tradizionale giro che si fa giorno 5. Il giro che esce dalla Basilica, percorre la via Vittorio Emanuele, poi scende la via Scutere, risale da via Umberto per poi arrivare alla villa delle Favare e poi tornare in Basilica. Domani sera, a Dio piacendo, faremo la processione del 6 sera e stiamo a vedere se il tempo ce lo permette. Fra le tante iniziative collaterali della festa, sentiamo quelle organizzate dal Circolo San Blagido. Parliamo delle iniziative collaterali alle feste patronali di Biancavilla, ce n'è una importante in programma per il 14 ottobre, domenica 14, promossa dal Circolo San Blagido. Alessandro Rapisalda, parliamo di questo appuntamento che è abbastanza significativo anche perché ci riporta in mente anche il fatto che Adrano e Biancavilla siano molto vicine. Esattamente, anzi, proprio la nostra iniziativa tende a voler sottolineare quello che il toponimo di quel luogo vuole vendicare. Quello è sempre stato conosciuto come Pedata di San Blagido, con alcune leggende che poi si sono un po' montate sopra, ma in realtà abbiamo un po' visto che la parola Peraton dal greco era proprio confine di San Blagido. E quindi, simbolicamente, abbiamo voluto mettere lì proprio una stele a ricordare questo, in modo che i posteri a memoria ricordino quel luogo come Pedata di San Blagido, così come ce l'hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni. Quindi abbiamo, diciamo, spinto questa iniziativa di tipo culturale e religiosa. L'abbiamo spinta chiaramente non solo a livello nelle chiese, ma siamo andati in tutte le scuole a raccontare l'importanza di San Blagido per il nostro territorio, l'importanza culturale che ha avuto questo santo. E poi un'altra iniziativa bella che quest'anno abbiamo avuto il piacere anche di promuovere, un editore locale ha pubblicato un libro, un libro proprio sulle festività di San Blagido a Biancavilla, Nero su Bianco Edizioni, fatto da Placido San Giorgio, una novella di Federico De Roberto, che parla di San Blagido ed è ambientata a Biancavilla nella fine dell'Ottocento e inizi del Novecento. Quindi è bello che stiamo facendo queste azioni di tipo culturale per promuovere la festa, anche la festa religiosa.